Aoh, ti trovi in centro a Bologna e vuoi fare un pranzo fritto di questo livello? Guarda il video. Ci troviamo da Indegno alla Crescentina 2.0 e preparatevi. Sì, perché questo format ha letteralmente rapito il cuore e lo stomaco di tutti quanti gli universitari di Bologna. Street food alla vecchia maniera. Arrivi, scegli, ordini, paghi e mangi passeggiando. E che te magni. Tortellini fritti con crema di parmigiano. Che eventualmente possono essere ordinati anche con crema al tartufo. Sono a tutti gli effetti la nuova evoluzione delle ciliegie. Ne magni una, non te fermeresti mai più. Di crescentine a menù poi ne hanno un'infinità. Una delle rosignature è quella con mortadella, granella di pistacchio e stracciata. Se vai a Bologna e te propongono un qualsiasi piatto con la mortadella, che fai? Non lo provi? È normale che lo provi. Ok, se ripenso a questa invece, prendo la macchina e torno subito a Bologna. Crescentina fritta, ripiena di stracciata e raguola bolognese. Però ragù di prosciutto, quindi tutto estremamente maialoso, raga. Un'untezza e un godimento che non hanno rivali. E vabbè, visto che già ci stavo, mi sono provato anche quella con bacon e patate. Adesso voi penserete che dopo tutto sto fritto ne avevo abbastanza. E invece no, tortellone fritto ripieno di ricotta. Raga, tutto quello che fa indegno è fritto. Ma è fritto alla perfezione ed è assolutamente da provare. Quindi, se passate da Bologna, fateci un salto. Ma prima, seguitemi e salvate il video. Bella.